Un governo non in grado di poter garantire i diritti dei balneatori italiani ed abruzzesi in particolare riguardo la direttiva europea Bolkstein. Lo dice il centrodestra che questa mattina per bocca dell'onorevole Fabrizio Di Stefano ha ribadito che la revisione ed il riordino delle concessioni demaniali marittime non possa essere demandato ad un esecutivo ormai arrivato a pochi mesi dalla sua scadenza con le elezioni politiche alle porte. Beh hanno fatto una legge delega che è una presa in giro, una legge delega al governo che in sei mesi deve trattare per vedere chissà che cosa, sei mesi è un governo che non ne ha di vita sei mesi, è una presa in giro però pericolosa perché chiude la porta a ogni trattativa con l'Europa, cioè rinunciano a provare a strappare come hanno fatto altre nazioni invece modifiche sostanziali sulle scadenze della Bolkstein, poi addirittura arriva l'emendamento Pezzopane in Senato che parlava di 2050 salvo essere ritirato, cassato dal capogruppo in commissione del PD. Allora è proprio un'ulteriore presa per i fondelli, evidentemente il governo con questo strumento vuole andare in campagna elettorale a trattare su territori il discorso delle concessioni. La nostra proposta è appunto questa, trattare con l'Europa, prima però dobbiamo sapere quanto è lo stesso in commissione, la stessa agenzia del territorio ha ammesso di non sapere quanti concessioni ci sono in questo momento in Italia e quanti chilometri prendono queste concessioni. Allora senza avere nulla andiamo a brancolare nel buio con una legge delega, facciamo invece una ricognizione e poi andiamo in Europa a trattare condizioni con voce forte e con un governo forte, governo forte e voce forte che in questo momento in Italia non c'è.